Sta per terminare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto. In realtà questa convocazione era stata chiesta dal Sindaco di Caserta, Marino, proprio per contrastare la violenza giovanile, le risse che continuamente avvengono nel centro storico. L'assassino brutale del 17enne ovviamente ha fatto slittare l'ordine del giorno. Qui la risposta non può essere soltanto una risposta di forze di polizia o di magistratura, ma ci vuole una risposta complessiva, ci vogliono investimenti sociali, culturali, coinvolgere le famiglie. Quindi è un lavoro che io voglio fare anche con la scuola, con le associazioni del terzo settore. Ci vuole tanto impegno, ci vuole, come ho sempre detto, la collettività, il contesto che deve supportare l'azione di legalità. L'azione di legalità nasce da una sinergia culturale. Lei e padre, guardando la telecamera, si rivolge a questi ragazzi? Non si può oggi uccidere per delle banalità. Il valore della vita è sacro. I problemi non si risolvono in questo modo, si creano solamente ulteriori problemi. Oggi quello che deve prevalere è il dialogo, solamente col dialogo, con la costruzione di cose buone si può ottenere qualcosa.